Questa giornata, oltre che celebrare la ricorrenza, è stata l'occasione per divulgare i dati relativi all'attività del corpo in un anno di servizi, oltre che essere l'occasione utile per far conoscere alla cittadinanza le attività svolte dal comando. Un tempo erano i vigili urbani, dice la comandante Montagna durante la cerimonia, anzi le guardie del comune, nate per far rispettare i regolamenti comunali inquadrati nella categoria degli operai, presenti solo nel centro città e che consumavano le suole delle scarpe per stare in mezzo agli incroci e fare viabilità. Oggi, grazie alle tecnologie, l'attività della polizia locale spazia in più ambiti, anche se il controllo della viabilità rimane l'impegno principale. E grazie ai sistemi di videosorveglianza sono stati controllati 50.000 veicoli in media al giorno nel periodo invernale e 80.000 nei mesi estivi, dei quali si è in grado di sapere nell'immediatezza se sono assicurati, se hanno effettuato la revisione periodica e soprattutto se sono oggetti di furto. I dati ci restituiscono impietosamente anche una fotografia dei comportamenti degli utenti della strada. A Fano, da novembre 2018 a novembre 2019, le infrazioni al codice della strada sono passate da 16.000 a 20.000. In questo quadro negativo però emergono anche le note positive, come il numero degli incidenti stradali che sono in diminuzione, passati da 224 nel 2018 a 215 nel 2019. Diminuiti anche i feriti, passati da 180 a 172, in netto calo anche le infrazioni legate alla sosta da 2.889 a 2.547. Cittadini virtuosi anche nella sosta selvaggia, da 1.100 infrazioni si è crollati a 950. Allarmante invece, purtroppo, il dato che emerge dall'infrazione più pericolosa, quella legata al semaforo rosso che è schizzata dalle 1.277 alle 5.320 del 2019. Fiore all'occhiello però è vanto del corpo, come ha siottolineato la comandante montagna, anche la sezione ambientale che ha consentito di scoprire nell'ultimo anno 135 furbetti del cassonetto e ben 118 reati legati allo smaltimento abusivo di rifiuti.